Il Cursal rappresenta di certo un pezzo di storia della cultura di grotta a mare dove si sono esibiti grandi artisti e dove la perla dell'Adriatico ha consolidato la sua fama di meta turistica di qualità. Ora il mitico Cursal si apre anche all'arte ed ospita nei suoi locali le esposizioni di alcuni talentuosi artisti del territorio grazie alla rassegna Cursal Spazi Aperti. L'iniziativa si aprirà il 19 marzo con le foto e esplorazioni di Bruno Bruglia. La mostra Essere il viaggio proporrà una selezione delle migliori immagini scattate fra Nuova Zelanda, Isole Tonga, Sydney e Hong Kong. Il tutto corredato da filmati. Poi seguiranno altri quattro appuntamenti da aprile a giugno con Franco Zacche, Simona Annibali, Vincenzo Carboni e Tamara Aureli. È proprio l'Aureli a dirci qualcosa in più sulla rassegna. Mi presento anche come organizzatrice di mostre e per me è fondamentale dare opportunità agli artisti dei stimoli, dei posti dove esporre e comunque creare i loro stimoli. Ancora una volta il comune di Grotta Mare si conferma come centro di produzione culturale e il vice sindaco e assessore alla cultura Enrico Pergallini commenta così spazi aperti. Un ritorno dopo un periodo di fermo, una volta che è stata recuperata la sala Cursal, per aprirsi all'esperienza artistica del territorio. Un'iniziativa dunque che vuole portare al centro la cultura artistica del nostro territorio, in più documentare un fenomeno diffuso in questi anni. Il fatto cioè che molte persone dedicano il loro tempo libero non ai centri commerciali ma alla ricerca artistica. Un fenomeno che va segnalato e va sottolineato.